Salve a tutti amici, quante volte succede di perdere il telefono nella stanza e non riusciamo mai a trovarlo? Se avete Apple Watch associato possiamo trovarlo semplicemente facendogli fare un suono. Come si fa? Semplicemente swipe verso l'alto e facciamo tap su questa icona. Come potete vedere ogni volta che andiamo a premerlo il nostro iPhone farà un suono in questo modo ci permetterà di localizzare il dispositivo abbastanza velocemente. Spero di essere stato utile, un saluto.